Più personale, più tecnologia, più investimenti nella sanità già dal 2016. Il motto del 2017 è produzione di servizi per la comunità. Lo ha detto il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, in occasione della presentazione delle nuove tecnologie e delle riqualificazioni effettuate negli ospedali di Ascoli, San Benedetto del Tronto e nella Casa della Salute di Offida. Sono stati infatti inaugurati due nuovi impianti di risonanza magnetica ad Ascoli e San Benedetto. La nuova sede di oncologia medica e i laboratori oncologici di Ascoli, il nuovo percorso di cure intermedie nella Casa della Salute di Offida, il nuovo reparto di medicina interna e la nuova sede del consultorio familiare a San Benedetto del Tronto. Grazie alle assunzioni con il 130% del turnover, ha detto il Presidente Ceriscioli, i fondi nazionali cresciuti rispetto allo scorso anno e già assegnati alla sanità regionale e l'incremento consistente degli investimenti tecnologici, il 2017 si è aperto con tanti segni più che ci devono adesso restituire servizi a favore dei cittadini per continuare ad abbattere le liste di attesa ed essere sempre presenti nei confronti delle comunità, degli ospedali come sul territorio, con qualità, competenza e quantità di offerta.